pronta sei pronta adesso andiamo a comprare le uova l'arma del delitto no cazzo è chiuso il supermercato abbiamo noi due uova? sei ne abbiamo? no sei so troppo dimmi la vita quando hai messo il post se questo post arriva a 150 like mi rompo un uovo sulla testa no? pensavi che arrivava a 150 like? no non pensavi che ci arrivavi invece sei arrivato a 200 like mi vogliono tanto male che c'è? ho preparato semplicemente le uova allora 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 questo è il video che avevo promesso di fare e dovrò spiaccicarmi un uovo in testa io non ho il coraggio di farlo allora 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 uno due tre io sto morendo dalle risate l'uovo è rotto e siccome qualcuno di voi sicuramente sta pensando vorrei averglielo l'uovo in testa per voi oh dio mio oh mamma mamma sorridi da Denise è tutto una buona serata che stile il colore dei capelli di solito è messo rossa ora è messo giallo stavo pensando se se metti altri post con delle scommesse del tipo se arrivo a 150 like mi faccio la doccia ghiacciata no eh no mi tiro una secchiata d'acqua no e me la faccio come? che me la faccio fare l'uovo eh aspetta che ti passo l'asciugomano si si wow magliettina da lavare la longa tutto da l'occhio quanto è io? occhi da cinese ok e va bene allora per questo scommesse è tutto e scordatevi che lo rifaccio perché lo rifarò ciao 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 ciao